Aperture domenicali dei negozi nel Salento, noa la flessibilità selvaggia che penalizza il settore e i lavoratori, scorretto il comportamento di alcuni sindaci e la denuncia di Filcamps, CGL, FISA, SCAT e CISL, Wiltux, Will. Le nostre organizzazioni sindacali sono sempre state favorevoli a una flessibilità contrattata e regolata delle aperture domenicali degli esercizi commerciali perché consapevoli delle esigenze del consumatore per lo sviluppo del settore, spiegano i responsabili sindacali in una lettera inviata al prefetto della provincia di Lecce, Giuliana Perrotta, e alla vicepresidente della Regione Puglia, Loredana Capone. I sindacati chiedono però che queste autorità intervengano al più presso per una regolamentazione. La flessibilità selvaggia e a macchia di leopardo finiranno con l'affermare una concorrenza sleale tra le aziende e una penalizzazione dei lavoratori del settore costretti a sacrificare gli spazi di vita propria della famiglia. Le organizzazioni sindacali pongono a questo punto un problema di condotta di alcuni sindaci sulle aperture domenicali e festive e nel rispetto della legge regionale e con spirito costruttivo specificano i sindacati che il tavolo di concertazione ha cercato di lavorare in questi anni mentre il comune di Cavallino ha voluto sognare le differenze non partecipando mai alla discussione e adottando provvedimenti a dir poco scorretti. Filcamps CGL, Fisaskat Cisle e Wiltux Will ritengono quindi inammissibile che un modo di agire scevro da regole rischi di imperare su chi invece accetta un confronto con le parti sociali concordando nelle decisioni. Per questo chiedono a prefetto e regione di intervenire affinché si riconduca ogni scelta alle amministrazioni comunali interessate a comportamenti rischiosi della legge. I sindacati chiedono inoltre che sia promosso dalle due istituzioni un confronto con le parti sociali al fine di evitare conflitti giuridici e sociali.